Ok, allora, riprendiamo da dove eravamo fermati prima della pausa, cercando di completare questa costruzione delle informazioni che ci servono per risalire l'albero di visita. Non è proprio l'albero di visita, ma sono informazioni correlate. Allora, cosa succede? Che noi siamo riusciti a intercettare il momento in cui viene scoperto un nuovo vertice e siamo riusciti anche a stamparlo. Ok? Il problema è a questo punto, come faccio a sapere da chi è stato scoperto questo vertice? Quindi dovrei da questo vertice, diciamo così, risalire a quello precedente e poi aggiungerlo alla mappa. Quindi potrei fare una cosa di questo genere. Ok? Prendere, lasciamo perdere questo print ovviamente che l'abbiamo messo solamente per aiutarci, ma decidiamo una fermata. Nuova è questo getVertex che mi dice l'evento, che mi viene passato come parametro all'evento. Però come faccio a trovare la fermata precedente? La fermata precedente dovrebbe essere, adesso lo scrivo a parole, ok? La fermata precedente dovrebbe essere un vertice adiacente a nuova che sia già raggiunto. E adesso ci ritorno su questa frase. Una volta che ho questo, io dovrò semplicemente aggiungere alla mappa dei predecessori. Come l'ho chiamata questa mappa? L'ho chiamata predecessore, ok? Quindi dis.predecessore.put Dovrò aggiungere un elemento a questa mappa in cui dico che la nuova, che ho appena scoperto Quindi la chiave, la nuova fermata, è raggiungibile dalla precedente. E a questo punto sono a posto, ok? A questo punto sono a posto perché ogni volta che trovo un vertice, ho la freccia, diciamo, che mi dice qual è quello precedente da cui, che ovviamente deve essere uno adiacente e deve essere uno che è già stato raggiunto. Come faccio a sapere che è già stato raggiunto? Ebbè, perché, ad esempio, cioè, è già presente nelle keys della mappa. Ok? Questo è un lavoro che potremmo fare. Significa che quando ho un vertice, devo andare un po' a esplorare tutti gli adiacenti. Abbiamo visto prima, all'inizio della lezione, come si fanno a trovare gli adiacenti. E per ciascuno di questi adiacenti potrei andare a controllare se è contenuto nella mappa. Perché nella mappa, ogni volta che faccio una put, aggiungo la chiave a questo elemento e quindi mi ricordo che l'ho già visto. Ovviamente questo funziona se preventivamente questa mappa è stata creata e inizializzata in modo corretto. Preventivamente dove? Beh, preventivamente qua. Prima di inizializzare attraverso al listener, in realtà anche dopo sarebbe lo stesso, però prima di iniziare l'attraversamento vero e proprio, prima che questo metodo put possa essere mai chiamato, devo prima di tutto creare questa mappa. dis.predecessore uguale new hash map nuova mappa faccio new così eventualmente se chiamassi più volte questo metodo ogni volta parte pulito con una sua mappa e poi ci devo mettere, attenzione, predecessore, il primo elemento che è la radice, la sorgente. Perché la sorgente non viene scoperta dall'algoritmo, la devo, è il punto di partenza, l'aggiungo io. Quindi avrò un put partenza virgola null ok? Quindi qui, a questo punto mi basta implementare queste due righe, questo codice con due righe. L'ho lasciato come commento perché adesso in realtà scopriamo un modo più furbo di farlo. Però questa è l'idea. Ecco, vi faccio notare, prima di passare al modo più furbo di farlo, una cosa un po' strana, nel senso che questa, che è il motivo per cui, diciamo così, prima dell'intervallo, abbiamo fatto questa classe strana, anonima, in line. Perché qua, in questa riga qui, sto usando un oggetto predecessore, ok? che non è un parametro di questo metodo, non è neanche un parametro, una variabile interna di questa classe. Cioè, come fa questa classe qui, che abbiamo detto che è un oggetto qualunque, fatto da una classe anonima, che implementa questa interfaccia, a conoscere questa variabile predecessore? Ecco, essendo un metodo implementato in una classe diversa. e lo fa perché, dal punto di vista lessicale, diciamo così, è stato questo codice scritto all'interno di una classe in cui questo è definito. Quindi sono dentro la classe model. Questo meccanismo prende il nome, è un meccanismo abbastanza avanzato del linguaggio, prende il nome di chiusura o closure, attraverso cui una funzione definita all'interno di un'altra, oppure una classe definita all'interno di un'altra classe, può vedere le proprietà della classe che la contiene. È un po' un'eccezione. Io se questa classe qui l'avessi costruita in un file separato, avrei dovuto faticare di più perché avrei dovuto riuscire a passare anche come parametro il valore di predecessore. Quindi avrei avuto una classe che non è, che ovviamente implementava l'interfaccia attraverso l'istender, ma nel costruttore avrebbe ricevuto una copia della mappa su cui lavorare, eccetera, eccetera. era tutto un lavoro in più, non difficile, per carità devo semplicemente passare un parametro e memorizzarlo localmente, però il fatto di costruire la funzione in line mi permette molto, soprattutto per i listener, per il gestore di eventi di questo tipo, mi permette molto facilmente di usare le stesse variabili della classe all'interno del quale questo evento viene eseguito. Quindi è un'eccezione un po' strana alle regole di visibilità di Java, che normalmente sono basate sulle classi, sulle identitarietà, in questo caso sono basate sul contenimento lessicale. Predecessore, se l'avevamo dichiarato prima dell'intervallo, come mappa definita dentro il model, qua, alla riga 26, pensando già appunto che l'avremmo voluta. Allora, io l'ho dichiarata dentro la mappa, la dichiaro dentro la mappa perché voglio che sopravviva all'operazione di visita, perché io questa mappa di predecessori la voglio interrogare dopo per andare a costruire i percorsi minimi. Perché forse non è this, aspetta, forse bisognava togliere il predecessore. Ho sbagliato, non lo devo mettere this perché this fa riferimento a questa classe new. Quindi devo andare a prendere predecessore come, è stato un errore mio, variabile che lui va a ricercare nella classe corrente e in tutti i contesti in cui è visibile. Vi dicevo, prima di, quindi ho tolto il this, grazie a voi, invece, per aver segnalato il problema. Allora, qui potrei implementarlo, quel codice che abbiamo scritto, che di fatto è lo stesso codice che abbiamo visto all'inizio di questa mattina, però mi accorgo che è un pochino, è un pochino strano non dover rianalizzare gli archi del grafo quando sicuramente l'algoritmo ha già cercato, ha già trovato l'arco che ci serve. Ecco, per questo, forse, sarebbe più comodo andare a considerare un altro metodo, che è un pochino più complicato da capire, ma che invece è l'Edge Traverse, anziché il Vertex Traverse. Cioè, il metodo Edge Traverse, che cosa fa? Viene chiamato tutte le volte che l'algoritmo attraversa un nuovo arco e lo attraversa per scoprire un nuovo vertice. Alla fine, è la stessa cosa. Cioè, quando attraverso un arco vuol dire che ho attraversato un vertice. La differenza qual è? È che nella Vertex Traverse ho solamente più l'informazione sul tipo di vertice. Mentre invece nell'Edge Traverse Traverse l'Ivent ho informazione sull'arco che è stato attraversato. E l'arco ha i due vertici, partenza ed arrivo. Quindi magari mi è più comodo farlo dentro l'arco, perché a questo punto non ho solamente un vertice, ma ne ho due. Andiamo un po' a vederlo nella documentazione. Noi ci eravamo fissati su questo, ci siamo accorti che dobbiamo un po' andare a interrogare il grafo, ma magari abbiamo, scusate, qui ho sondato il metodo Traverse l'Istern, ecco la classe Traverse l'Istern deve implementare questi metodi. Ci potrebbe essere il metodo Edge Traverse che riceve un parametro di tipo Edge Traverse l'Ivent e l'Extraversal l'Event contiene il suo interno, vediamo che metodo mi dà, il metodo Summary GetEdge, eccolo qua, GetEdge che mi dà l'oggetto di tipo Edge, cioè l'arco del grafo. Allora, avere già l'arco mi permette di semplificarmi il lavoro, perché anziché andare a cercare tra tutti gli adiacenti e ne avrò due, quello di partenza e quello di arrivo. Quindi uno sarà la nuova e l'altro sarà la precedente. Non so se mi sono spiegato a dovere. Io qua se vado a implementare Edge Traverse avrò avrò un arco, un default Edge che sarà il mio arco che posso ottenere direttamente interrogando l'evento, il parametro che mi viene passato dall'evento come GetEdge. di questo arco potrò estrarre sia un oggetto arco del grafo quindi grafo punto GetEdge Source di e e poi avrò grafo punto GetEdge e GetEdge Target di arco quindi in questo modo io posso mi semplifico la vita perché avendo già l'oggetto arco ho i due estremi dell'arco questo qui mi sta dicendo l'algoritmo mi sta dicendo guarda che io attraversando questo arco ho scoperto un nuovo vertice uno di questi due il grafo non è orientato quindi devo fare ragionamento nei due modi uno di questi due è il vertice nuovo appena scoperto l'altro è il vertice che già conoscevi da cui sono partito per scoprire quello nuovo allora a questo punto anziché fare la ricerca tra tutti gli adiacenti devo semplicemente cercare tra questi due quindi mi conviene ok quindi posso chiamarlo fermata chiamiamolo A un certo arco e un fermata B avrò solo due casi fermata B avrò solo due casi un primo caso è ho scoperto cosa sto scrivendo scusate ho la tastiera leggermente scoperto ho scoperto e dai A arrivando da B quando si verifica questo caso? beh quando B se B lo conoscevo già quindi se B lo conosco già cosa vuol dire che lo conosco già? che è una delle chiavi della della mappa quindi la mappa è predecessore contains key eccolo qua che è il metodo che mi dice se ha una certa chiave B allora se la mappa contiene già B tra le chiavi vuol dire che B l'avevo già visitato e quindi di sicuro è il vertice sorgente sto anche rispondendo da Corrine e allora vuol dire che B lo raggiungo da A e nella mappa dovrò aggiungere che A viene scoperto da B altrimenti ovviamente sarà il contrario B non lo conoscevo e quindi di sicuro conoscevo già A conoscevo A e quindi ho scoperto B allora Alessandro il sorgente e il target sono relativi a come è stato costruito il grafo non a come sto attraversando l'arco quando un grafo è un grafo non orientato come il nostro la libreria JGraphT mette dentro gli archi un po' come gli piace quando io creo un arco da A B in un certo senso lo memorizza così con un certo sorgente A e destinazione B e target B poi però tutti gli algoritmi quando attraversano il grafo lo possono attraversare nel verso in cui l'ho costruito A B oppure nel verso contrario B A anche se lo attraversano nel verso B A quando io vado a prendere l'oggetto Edge lui ha un suo source un suo target che era quello che aveva quando è stato creato e questo è quello che mi complica la vita in questo punto qua se il grafo fosse stato un grafo orientato non ci sarebbe nessun problema perché l'arco può essere solo attraversato da source verso target ma in un grafo non orientato gli algoritmi possono attraversare i grafi o da source verso target o da target verso source quindi questi nomi source e target perdono un pochino di significato un po' come si dice genitore 1 genitore 2 cioè sono intercambiabili e quindi devo andare a considerare le due possibilità le due varianti questa nomenclatura source e target lo ripeto solo per puntualizzarlo non è relativo al verso in cui è stato attraversato l'arco in questo momento qui dall'algoritmo ma semplicemente da come è stato costruito l'oggetto ai tempi della creazione del grafo purtroppo è un'anomalia su cui ci sto spendendo il tempo che serve proprio perché poi dopo non ci andiamo a sbagliare o a dimenticare di questo dettaglio quando facciamo i nostri esercizi ok questo oggetto edge di jgraph t è abbastanza antipatico da gestire ogni volta però vabbè ce la si fa allora se è così quindi abbiamo la possibilità di fare questo anziché quello di prima è un po' più semplice perché semplicemente con una if che va a vedere la mappa mi evito di dover fare un ciclo che va a vedere tutti gli adiacenti sicuramente c'è meno codici da scrivere e sarà più efficiente quindi questa parte qua la possiamo commentare tutta allora se è così possiamo verificarlo magari possiamo fare giusto per debug una print out.printline diciamo che a scoperto da b e poi sotto invece stampiamo il contrario b scoperto da a proviamo a eseguirlo e ci dirà andiamo all'inizio Guy Mocquet scoperto dalla Furche Brocian scoperto dalla Furche Place de Clichy scoperto dalla Furche e qui c'è nel livello 1 poi abbiamo il livello 2 che sono questi qua scoperti da Guy Mocquet da Brocian e dalla Furche no c'è qualcosa che non va perché Place de Clichy ah è qua questo qui esatto compare più di una volta in questo caso ma non importa perché tanto nella mappa lo mettiamo una volta sola se compare duplicato forse potremmo mettere un if in più per evitare di aggiungere una cosa che già conosciamo ma dovrebbe essere a posto la mappa cosa sia e ok Giorgia è semplicemente un parametro che viene passato a questo metodo edge traverse allora ricordiamoci qui stiamo definendo un listener quindi un gestore di eventi questi metodi i metodi di questo gestore di eventi vengono chiamati automaticamente dall'algoritmo che sta attraversando il grafo e ogni volta che attraversa che chiama uno di questi metodi questo algoritmo passa uno un parametro per descrivere che cosa è successo cioè il significato del metodo è ho traversato un nuovo arco e come parametro ti do un oggetto in questo caso un edge traverso l'event che contiene delle informazioni sull'evento stesso in questo caso e questo è predefinito diciamo così dalla libreria che mi dice guarda questo ti passa un oggetto di tipo edge traverso l'event e questo oggetto traverso l'event a me non interessa vedere quali sono i campi interni perché essendo protetto non lo posso leggere ma ha dei metodi tra cui get edge get edge mi dà appunto è un oggetto che mi permette di conoscere l'arco ecco non confondiamo questo get edge che a sua volta ha un source e un target con questo get source che è scritto qua sotto perché l'oggetto e l'oggetto attraverso l'event ha un metodo get source però non c'entra niente col source dell'arco perché è il source dell'evento stesso quindi questo get source punterà alla classe che ha creato l'evento quindi al nostro bet first iterator il source e il target vanno presi dall'edge e non vanno presi dall'oggetto evento poi purtroppo si chiama e lui lo chiama e come noi che normalmente chiamiamo gli archi e questo contribuisce alla confusione ok allora se abbiamo fatto tutto questo dovremmo essere pronti finalmente per poter costruire i cammini allora i cammini come li possiamo costruire li possiamo costruire con un nuovo metodo trova cammino tra due fermate f1 fermata partenza diciamo così fermata arrivo e questo trova cammino e mi restituirà una lista di fermate questo è un cammino non è più solo un insieme di vertici quindi sarà una lista ordinata che ha come primo elemento la partenza come ultimo elemento l'arrivo cosa faccio e uso ciò che ho fatto finora quindi come prima cosa creerò farò una visita del grafo partendo dalla stazione di partenza quindi farò come si chiamava la visita del grafo l'abbiamo chiamata fermate raggiungibili a partire dalla partenza in realtà la fermate raggiungibili so già che mi restituisce una lista di vertici ma questa lista di vertici di fatto non mi interessa perché contiene tutti i vertici del grafo nell'ordine della visita in ampiezza va bene ma a me interessa il fatto che chiamando questa fermate raggiungibili venga in realtà costruita la mappa degli predecessori e quindi a questo punto posso partire dall'arrivo quindi posso partire dall'arrivo quindi creare una lista fermata che sia il mio risultato e la creo come nuova array list nu vuota ci metto dentro il punto di arrivo ok e poi vado all'indietro via via che trovo i predecessori quindi fino a che predecessore punto get di mi serve una variabile scusate fermata f uguale arrivo ok parto posiziono un segna posto f sulla casella di arrivo e mi chiedo se questo predecessore si ha un predecessore a questo f è diverso da null cioè il predecessore di f non è null allora posso aggiungere result.add predecessore punto get di f e poi spostarmi il mio segnalino ecco c'è una grafica che ho dimenticato sulla precedente f uguale predecessore punto get di f stesso vabbè allora a questo punto posso scambio le due e evito un'operazione allora cosa sto facendo io sto partendo dalla fermata di arrivo e poi torno via via risalgo verso il sorgente attraversando la mappa cioè dalla fermata di arrivo punto get trovo il vertice precedente rispetto alla fermata di arrivo e lo chiamo di nuovo f all'interazione successiva troverò il vertice precedente ancora a quella successiva troverò il vertice precedente ancora eccetera eccetera fino a quando non trovo f uguale null beh allora facciamo una cosa vabbè dovrebbe andare bene così e a questo punto posso ritornare il risultato che mi dà ve lo dirà in ordine inverso poi lo sistemiamo va bene mi darà questa lista in ordine inverso una lista che contiene tutte le fermate dall'arrivo alla partenza sul cammino minimo cioè che fanno parte dell'albero di visita in ampiezza vediamo come funziona e se funziona allora per farlo devo sulla test commento solo queste print perché se no stampano tutti gli archi e ci danno solo fastidio e torno invece nel test model a cercare un'altra fermata di arrivo trovo fermata prendiamo una casa sulla mappa intanto sono tutte collegate una che non abbia tanti accenti così è facile da scrivere allora dal nostro la furch template è facile da scrivere questa qua che non è neanche vicinissima e a occhio non è anche ovvio quale sia il percorso migliore e allora mi vado a chiedere quali sono l'elenco delle fermate migliore chiedendo al modello di trovare il cammino tra la fermata di partenza e la fermata di arrivo system.out .println println di l'ho chiamata questa variabile percorso ok vediamo un po' cosa succede perché non mi stampa niente ho salvato graffo qua sono irraggiungibili ah sì c'è qualcosa che non va perché infatti sta ancora girando allora abbiamo sbagliato qualcosa lasciatemi stoppare si stanno girando attenzione che stanno girando di più allora il rischio probabilmente quello che abbiamo sbagliato anzi abbiamo o sbagliato non voglio darvi colpe potrebbe essere che allora questo qui mettiamo un breakpoint qua e proviamo a debaggarlo insieme può darsi che sia creato un loop abbiamo sbagliato qualcosa vediamo qua provo a mettere un breakpoint qua perché secondo me questo potrebbe essere il punto dove vediamo che cosa succede allora partenza è la force e arrivo è template va bene quindi andiamo avanti result.ad arrivo e il result va bene ha la stazione di arrivo fin qui va bene poi andiamo a vedere il predecessore c'è un predecessore questa f al momento è la fermata template il suo predecessore è republic e aggiungiamo republic poi il suo predecessore è questo figlio del calvario e l'aggiungiamo aspetta un attimo qua ho cliccato la cosa sbagliata fatemi tornare su 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 eccolo qua adesso questa result è cresciuta tantissima allora scusate riavvio il programma perché ho cliccato su vai avanti e non ho visto passo passo cosa faceva ho cliccato sulla frecciolina a fianco allora vediamo sempre F che cosa fa republic figlio del calvario republic ai 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 ho creato un loop sta andando avanti all'infinito perché allora ho sbagliato a creare questa mappa perché c'è un vertice da A a B e da B a A quindi abbiamo fatto delle ipotesi che non andavano bene qua abbiamo aggiunto degli archi che non ci dovevano essere allora facciamo i conservativi noi sappiamo che A arrivando da B se B lo conoscevo e quindi devo aggiungerlo se B c'è e A non c'è quindi not contains predecessore contains key A viceversa qui ci aggiungiamo una condizione if dove scambiamo le cose perché effettivamente avevamo notato prima nelle print che un determinato arco veniva stampato più volte quindi può anche darsi che un arco venisse stampato nei due versi e questo cresce il problema perché nella mappa aggiungevo degli archi che in realtà non facevano parte dell'arbero di visita quindi questo edge traversed è un metodo che mi faceva comodo ma forse viene chiamato troppe volte anche su archi che non sono i veri archi di scoperta dei nuovi vertici questo bisognerebbe andare a vedere più in dettaglio come è implementata questa funzione nella libreria ma io spero di risolvere il problema dicendo allora io aggiungo un arco da A a B se sono sicuro che B ce l'ho già e sono sicuro che A non ce l'ho già vedete questo noto e viceversa aggiungo l'arco da B ad A se sono sicuro che A ce l'ho già qui e sono sicuro che B non ce l'ho ancora e anche qua c'è il noto se capitasse magari di avere di vedere un arco in cui si A che B ce l'ho già entrambi allora non faccio niente non aggiungo alla mappa qualcosa che non dovrei aggiungere e quindi spero che questo fosse il motivo per cui si creavano dei loop prima allora stoppiamo il debug e proviamo di nuovo eseguirla stavolta funziona stavolta funziona perché mi dice che per arrivare a temple devi passare da Republic devi passare da Jacques passare da Gardelest da Magenta eccetera eccetera e poi è un giro abbastanza lungo che a un certo punto arriva a questo Lafourche che è il nostro in realtà il nostro punto di partenza quindi mi sta facendo vedere il percorso che devo fare anche se me lo sta facendo vedere al contrario partendo dal primo arrivando all'ultimo cioè partendo dalla destinazione arrivando alla sorgente è un percorso abbastanza lungo però sappiamo per come abbiamo costruito il grafo e per come abbiamo fatto la visita in ampiezza che è il percorso con minimo numero di stazioni allora rispondiamo alle domande di Alessandro che mi chiede mi chiede se l'oggetto è il predecessore della chiave allora la mappa predecessore ha come chiave il vertice di arrivo e come valore il vertice da cui provengo ok quindi io ho un nuovo arco in questo caso ho scoperto A da arrivando B quindi è un arco di tipo B verso A nella mappa devo aggiungere che A è arrivato da B quindi aggiungo A come chiave e B come oggetto come oggetto valore che è quello da cui l'ho scoperto a patto che B davvero lo conoscessi già ma questo dovrebbe essere scontato ma soprattutto A non lo conoscessi ancora e quindi non è tra le chiavi tra quelli già scoperti quindi le chiavi della mappa mi rappresentano tutti i vertici che ho scoperto la sorgente ce la metto dentro a forza l'ho messa dentro qua e tutti gli altri li metto dentro non appena li scopro per la prima volta e questo per la prima volta che avevo sbagliato prima e avevo sottovalutato diciamo così questo rischio ok mentre il valore semplicemente punta al padre al vertice padre Giovanni e Simone mi dicono dopo l'ultima stazione mi aggiunge anche un null e beh questo dipende un po' da come scriviamo il codice da come scriviamo questo codice qui e dal fatto che se controlliate qua se f è diverso da null oppure se il suo predecessore è diverso da null perché chiaramente null è il valore della mappa che noi abbiamo associato alla stazione di partenza quindi vuol dire che probabilmente state facendo un'iterazione di troppo in questo ciclo while infatti per questo io faccio questo get e non controllo se f è diverso da null altrimenti ci sarebbe il rischio appunto che aggiungessi anche già la stazione a me non dà Republic e questo è più strano cioè ti dà tutto giusto tranne Republic Temple, Republic, Shack però questi altri ci sono Beatrice e salta solo questa allora se è così allora sembrerebbe che il problema fosse inverso a quello di Alessandro e Giovanni cioè tu hai dei problemi sulla prima iterazione cioè può darsi che tu faccia un get di troppo e quindi il primo elemento lo salti e vai a prendere dal secondo in avanti quindi dobbiamo fare attenzione qui abbiamo questo elemento e poi ogni volta bisogna tornare indietro e come in tutti i cicli il primo elemento e l'ultimo sono sempre quelli che creano dei problemi quindi se a Beatrice ti manca solamente questo sapendo che Temple l'abbiamo messo dentro a mano qua alla 148 gli altri fanno parte dell'iterazione quindi mi verrebbe da dire che la prima iterazione l'hai saltata l'hai fatto un guess di troppo ok e questo chiaramente il debug non ce lo risparmia nessuno se volessimo trovarli in ordine noi adesso abbiamo result che è la lista che li contiene al contrario dovremmo creare una lista che inverte tutti gli elementi oppure dovremmo aggiungere l'add in aggiungere in testa all'elemento anziché anziché in anziché in coda adesso non ricordo ma il metodo add permette di aggiungere un elemento dove c'è la posizione vero? esatto c'è add index element quindi lo aggiungiamo in testa possiamo aggiungere in testa quindi aggiungiamo in posizione 0 la fermata F vediamo se funziona in questo caso me li stampa nell'ordine giusto partendo dalla force e arrivando a template come ultimo elemento ok? questa è un'operazione che è un po' antipatica da fare su un array list ovviamente come dice Mario perché la faccio ogni volta che aggiungo un elemento tutti quelli che avevo appena messo li devo spostare a destra ovviamente l'array list lo implementa ma lo implementi da modo meno efficiente rispetto a una linked list e quindi potremmo decidere di dire che semplicemente usiamo una linked list anziché un array list in cui l'operazione di inserimento in testa praticamente non costa niente però è un dettaglio di nuovo perché anche se lasciassimo un array list poiché questa operazione avrà qualche sì un'operazione che ha complessità n quadro però rispetto al numero di vertici di un percorso magari non è così forte però è bene a questo punto essendo facili da correggere è bene usare la struttura dati più adatta rispetto all'inserimento in testa in questo caso perché mi dà questo warning ah ok ho dimenticato il generic ok quindi adesso riproviamolo ancora una volta ok e dovrebbe essere corretto ok Dario mi dà un'eccezione java ip space è una forma di out of memory e quindi questo è probabilmente perché magari ha ancora il baco che avevo anch'io prima di aggiungere degli archi che possono creare dei cicli se aggiungo nella mappa di fatto questa mappa rappresenta un albero quindi un pezzo di grafo se metto male le frecce di questi archi o degli archi di troppo che non ci dovrebbero essere rischio di costruire dei cicli allora se costruisco dei cicli quando poi nel ciclo while vado a risalire all'indietro quello che pensavo che fosse un albero in realtà aveva dei cicli allora giro all'infinito e creo diciamo così continuo a creare un numero infinito di oggetti fino a quando la memoria finisce quindi io andrei a verificare adesso faccio commit tanto poi chiudiamo l'argomento e così potete verificare anche se la parte di aggiunta degli archi nel grafo è corretta Alessio mi chiede di far vedere la fine del percorso eccola qua e la fine di questo percorso è l'inizio di quello precedente temple, republic jack, gardelest magenta osman eccetera ok facciamoci un commit e poi vi do una brutta notizia no che non è vera una brutta notizia sarebbe una bella notizia commit quindi calcolo dei cammini minimi completato ok Beatrice mi chiedi perché ho commutato l'array list in una linked list semplicemente perché l'ho voluta ho voluto avere il percorso scritto in modo corretto cioè dalla prima stazione verso l'ultima e quindi poiché gli elementi li scopro dall'ultimo verso il primo ho voluto aggiungere in testa alla lista quindi vedete che ho modificato l'add anziché fare addf ho messo add0f che vuol dire ogni elemento nuovo lo inserisci all'inizio della lista allora in un array list dove gli elementi sono in celle consecutiva di memoria aggiungere in testa significa ogni volta dover spostare di uno tutti gli elementi esistenti e quindi ha una complessità odn ogni volta che aggiungo un elemento mentre invece aggiungere in coda significa aggiungerlo in una locazione di memoria che finora è libera quindi ha una complessità odiuno nel caso di un array list quindi aggiungere un elemento in qualunque posizione che non sia in fondo ha un costo maggiore perché devo spostare fare gli spazi per spostare gli altri elementi in una linked list invece non c'è questo problema quindi poiché la mia operazione è aggiungere in testa la linked list è più veloce è più efficiente per questo tipo di operazione poi ovviamente la linked list sarà più meno efficiente per altri tipi di operazione tipo andare a cercare un elemento o diciamo così indicizzare l'elemento dato l'indice il terzo il quarto il quinto però visto che qua semplicemente devo inserire l'elemento in testa e attraversarlo per poterlo stampare è più efficiente questa soluzione Michele la visita in profondità è sempre sconsigliata ci sono dei casi in cui può essere utilizzata no può essere utilizzata in entrambi i casi a noi cambia nulla ecco nel senso che veramente dobbiamo cambiare queste due righe e lavoreremo in profondità anziché in ampiezza e tutto il meccanismo sul vertex traversal eccetera continuerà a funzionare solo che non mi serve più a nulla avere quell'albero di visita in questo modo in profondità perché non mi dai percorso minimo quindi noi tutto questo giochino qua della ricostruzione dell'albero ha senso farlo se abbiamo un albero in ampiezza la visita in profondità in realtà è quella che spesso viene fatta di più perché essenzialmente dipende un po' da che cosa ci devi fare se tu devi aggregare delle informazioni dalle foglie verso le radice è più comodo la visita in profondità perché se è una procedura ricorsiva prima considera le foglie e poi via via torna indietro a considerare i vertici precedenti quindi per alcuni tipi di operazioni è più comodo oltre che se te la devi implementare tu a codice è molto più facile scrivere la ricorsiva che non fare l'insieme di livello L l'insieme di livello P1 controllarli eccetera ai fini ai fini di trovare quali sono i vertici raggiungibili sono equivalenti ai fini di trovare i percorsi minimi è meglio la visita in ampiezza ai fini di farci la nostra elaborazione sul grafo spesso è molto più comoda la soluzione in profondità perché è ricorsiva e quindi più facile da scrivere però diciamo così è una delle possibilità in certo senso ok quindi ha i suoi usi anche la visita in profondità anche in realtà poi sto pensando a cose che non tratteremo in questo corso quindi non voglio neanche entrarci troppo ci sono dei casi in cui effettivamente sulla classificazione degli archi sulla tipologia di grafi in cui ha più senso la visita in profondità ma non per i cammini C mi chiede se sarebbe stato più veloce collection.invert o se c'è un metodo di collection che inverte la collection non saprei nel senso che l'inversione della collection comunque richiede di ricopiare gli elementi quindi è una complessità odn mi sembra che inserire in testa nell'array list allora se uso la linked list mi conviene inserire in testa così gli elementi li ho già posti non devo invertirli se uso un array list sarebbe più comodo fare l'array list al contrario e poi chiaro il metodo per invertirlo perché così li ricopio una volta sola gli elementi li sposto una volta sola anziché spostarli ad ogni singolo inserimento perché alla fine ha una complessità che è odn necessariamente perché deve prendere gli elementi uno per uno Beatrice sì siamo agganciati alla linked list è solamente un problema di efficacia il risultato è esattamente identico ok vi dicevo che vi devo dare una brutta notizia che non è brutta ma per noi che abbiamo fatto questo lavoro sì perché la classe torniamo indietro la nostra classe breadth first iterator non è questa ma è questa breadth first iterator se andiamo a spulciare tra i vari metodi ha già un metodo get parent che dice mi restituisce dato un vertice v il nodo parent il padre del vertice v nell'albero di ricerca in ampiezza oppure mi ritorno a null se è il nodo radice cioè tutto il lavoro che abbiamo fatto noi in realtà era già fatto perché di fatto quella mappa che ci siamo faticosamente costruiti già la sta costruendo la classe depth first iterator e mi dà già un metodo per poter andare a interrogare questa mappa questo è l'equivalente di questa mappa noi non sappiamo poi internamente lui che cosa fa però mi dà già esattamente dato un vertice figlio mi dà già il suo genitore e quindi posso usare questo per risalire all'indietro quindi in pratica questo metodo get parent lo potevo usare tranquillamente nella mia funzione trova cammino qui anziché la mappa predecessore.get potevo fare get parent di f e mi dava già questo lavoro quindi in realtà tutto il lavoro che abbiamo fatto sul sul traversal listener non serve perché è già fatto da questa classe però mi sembra che sia stato un esercizio utile per capirlo e anche per poterlo magari ricostruire e adattare in altri casi in cui non ce lo troviamo già fatto altri metodi che sono interessanti sono get depth che mi dice qual è il livello di profondità di un vertice rispetto alla radice quindi mi dice il livello del vertice stesso e basta nel senso che questo spending tree edge di fatto mi dà l'arco attraversato anziché il vertice predecessore però essenzialmente mi dà la stessa informazione normalmente il vertice predecessore è più comodo è quello più operativamente più utile ok quindi in realtà abbiamo fatto un bel esercizio ma poi abbiamo scoperto che nella libreria il risultato c'era già magari se avessimo letto subito questo metodo qui non avremmo capito cosa serviva invece adesso sulle nostre pelle l'abbiamo capito è un metodo che però è implementato solamente dentro breadth first iterator perché se io vado dentro depth first iterator ad esempio che è l'altro iteratore principale e vado a vedere i suoi metodi non c'è non ci sono altri metodi che sono più legati diciamo così al loro modo di funzionamento ma non c'è il get parent chi ha implementato questa classe depth first iterator non si è non si è curato diciamo così di fornirci questo metodo e allora però il metodo di traversal listener funziona sempre se devo fare cammini minimi su un grafono non pesato e uso la visita in ampiezza beh semplicemente posso tranquillamente usare questo get parent visto che c'è ma c'è solamente su questa classe la visita in ampiezza perché è lì che ha senso diciamo così cercare di ricostruire i cammini minimi ok quindi abbiamo sofferto per nulla no per nulla no ma per e questo a questo punto diciamo così siamo in grado dato un vertice del grafo trovare tutti quelli raggiungibili dal vertice stesso nel nostro test model e dati due vertici trovare un cammino che li collega e guarda caso sia anche il cammino più breve il cammino più breve tra i due vertici stessi sotto l'ipotesi che il grafo può essere orientato o non orientato i nostri algoritmi di oggi funzionano in entrambi i casi ma non deve essere pesato cioè gli archi hanno tutti peso 1 nel caso in cui sia pesato il problema si complica perché avere il cammino di peso minimo non significa avere il cammino col numero minimo di archi e adesso affrontiamo iniziamo ad affrontare questo problema Alessandro mi chiede se usassi get parent come sarebbe cambiato il while semplicemente usavo get parent al posto di get nella mappa essenzialmente anziché predecessore.get di f avrei scritto get parent di f e funzionava uguale esattamente get parent mi dava la stessa identica informazione che ha la mia mappa predecessore quindi bastava cambiare quello tutto il resto era uguale compreso il fatto che l'ultima iterazione mi restituisce null che alla prima iterazione devo passargli il come si chiama il nodo di arrivo eccetera eccetera poi se volete magari quando faccio commit alla fine posso aggiungere la versione che usa get parent così ce l'abbiamo anche come confronto ok dicevamo magari spendiamo gli ultimi 10 minuti a cercare di estendere un pochino quello che abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto funziona abbiamo visto se i pesi degli archi sono tutti unitari cosa succede invece se nell'arco ci sono dei pesi che non sono tutti uguali allora il problema si complica perché a questo punto non stiamo più parlando solamente della visita di un grafo ma del problema più generale dei cammini minimi il problema dei cammini minimi si riconduce a una visita di ampiezza semplicemente nel caso in cui il grafo sia non pesato ma nel caso in cui il grafo sia pesato e quindi queste tratte di percorrenza non siano tutte uguali perché magari alcune sono più lunghe come chilometri alcune sono più lunghe come tempo e quindi il mio grafo probabilmente avrà delle indicazioni sugli archi che dipendono dal tempo di percorrenza o dai chilometri di percorrenza allora magari il numero minimo di stazioni intermedie non corrisponde al tempo minimo o alla distanza minima di percorrenza o al consumo minimo di carburante o quale che sia la vostra metrica legata allo spostamento potrei avere un percorso che ha più tappe ma è più veloce oppure un percorso che ha meno tappe ma in realtà è più lento perché c'è più traffico oppure c'è la metropolitana in quelle zone va più lentamente oppure passa meno frequentemente il percorso appunto che ha il numero minimo di svolte in certo senso di passi intermedi non è detto che sia quello più veloce devo tener conto della differenza dei vari archi e quindi immaginiamo di generalizzare il problema non solamente trovare un cammino che abbia il numero minimo di archi ma un cammino che abbia il costo minimo qui ci chiede ad esempio il cammino minimo tra S e V a occhio non è facile da vedere perché noi vediamo diversi cammini diversi modi di arrivare da S e V con la visita in ampiezza o in profondità noi troviamo un possibile albero di visita ma l'albero di visita che troviamo non è detto che sia quello che minimizza il costo del cammino noi abbiamo il cammino S U V ad esempio che ha peso 9 perché 3 più 6 poi avrei l'altro cammino S che passa da X e arriva a V e ha peso 5 più 4 9 anche lui poi potrei avere un cammino ad esempio che non mi conviene passare da X e poi da Y quindi avrei 5 più 6 più 7 quindi 5 più 6 è 11 più 7 è 18 per arrivare a V poi potrei avere il cammino che da S va U e quindi è 3 poi da U va X e quindi 1 3 più 1 è 4 e poi da X va a V 4 più 4 è 8 che guarda caso è migliore di quello che passa da U e va a V quindi quando faccio S e poi U scopro che conviene passare da X conviene passare da X per poi andare a V piuttosto che non da U andare direttamente su V perché da U a V ha un costo 6 passando da X ha un costo 1 più 4 che fa solo 5 quindi costa meno quindi bisogna trovare diciamo così i percorsi che in qualche modo gli alberi di visita se vogliamo continuare a chiamarli così che privilegino la somma totale dei pesi piuttosto che semplicemente il numero di archi cioè faccio un arco in più ma mi costa di meno quali sono gli algoritmi che possiamo usare in questo caso chiaramente adesso siamo sul finale della lezione quindi non riusciamo ad entrare nel dettaglio cerchiamo di capire un po' qual è il problema vi anticipo già però il finale a cui arriveremo chiaramente la volta prossima e il finale sarà qua dentro la documentazione di JackGraftT se andate a guardare c'è un package che si chiama dove è andato a finire shortest path che sono i cammini relativi agli algoritmi relativi ai cammini minimi ai cammini più brevi shortest path e anche qua ci sono tutta una serie anzi molto nutrita di algoritmi che risolvono questo problema su grafi che ha senso lo ripeto ancora una volta su grafi pesati orientati o non orientati non importa però il problema si pone quando gli archi hanno un peso diverso da uno hanno un peso diverso tra di loro allora in questo caso devo trovare degli algoritmi che adesso appunto andando un pochino a studiare a studiare alcuni di questi vedremo che hanno delle caratteristiche diverse risolvono di nuovo come più complicato ma l'idea è sempre la stessa delle visite tutti questi algoritmi risolvono lo stesso problema cioè mi trovano nel cammino più breve ma sono più adatti ad alcune condizioni piuttosto che ad altre alcuni tipi di grafi piuttosto che altri perché noi al fine il problema che cerchiamo di risolvere è quello di minimizzare il peso di un cammino che ha un certo punto di partenza un certo punto di arrivo definito dove il peso del cammino è definito come la somma dei pesi dei singoli archi abbastanza diciamo così ovvia come definizione e quindi matematicamente il cammino minimo tra il vertice di partenza U e il vertice di arrivo V è innanzitutto un cammino che collega U a V quindi V deve essere raggiungibile da U e tra tutti i possibili cammini che collegano U e V quindi che iniziano in U e finiscono in V è quello che ha il peso minimo peso definito della sommatoria che abbiamo appena visto come diciamo così in notazione il peso del cammino minimo lo chiamiamo anche distanza e si usa la notazione delta delta come D per ricordarci che è una distanza tra U e V quindi quando io dico una distanza tra due vertici in un grafo è la lunghezza e ovviamente tra questi due vertici posso fare cammini diversi il concetto di distanza ovviamente si porta dietro il fatto che questa deve essere la distanza minima e quindi la lunghezza del cammino minimo possibile ovviamente ci sono dei vertici che non sono raggiungibili da U allora in questo caso per convenzione diciamo che la distanza sia infinita anche se numericamente non vuol dire nulla semplicemente vuol dire che non fa parte dei vertici raggiungibili non parlo di componente connessa perché magari il grafo non è orientato e quindi non ha senso parlare di grafo connesso o non connesso perché dipende da quale sia il vertice di partenza quali sono i vertici effettivamente raggiungibili ecco dal punto di vista degli algoritmi abbiamo due grosse famiglie di algoritmi una che si occupa di problemi in cui io ho una sorgente e voglio trovare il cammino minimo da un vertice sorgente a un vertice di arrivo ok quindi quello che abbiamo appena fatto diciamo così nel caso del nostro grafo non pesato ho una sorgente e un arrivo e trovo l'algoritmo cioè un algoritmo che mi trovi il percorso quello che di cui ci accorgiamo è che l'algoritmo che trova il percorso minimo tra U e V di fatto tutti gli algoritmi che sono stati studiati con la stessa complessità trovano anche il cammino minimo tra U e tutti gli altri vertici quindi in pratica fissata la sorgente faccio girare l'algoritmo e lui mi calcola in un botto solo tutti i cammini minimi da quel vertice sorgente a tutti gli altri vertici anche se a me ne serve uno solo però per essere sicuro che quello lì sia il cammino veramente minimo in realtà l'algoritmo deve arrivare fino in fondo e scoprirli tutti quindi non c'è differenza di complessità tra un algoritmo che mi calcoli un cammino tra due vertici oppure mi calcoli tutti i cammini tra una sorgente e tutte le possibili destinazioni lo capiamo meglio quando vediamo gli algoritmi quindi non troverete nessun algoritmo che dati due vertici mi dà il cammino troverete tutti gli algoritmi che dato un vertice mi danno tutti i cammini possibili verso tutti i vertici di destinazione in fondo quello che abbiamo fatto un attimo fa era di quel tipo lì ci siamo fatti la mappa che avesse tutti gli archi e quindi a quel punto interrogando la mappa potevamo avere tutti i cammini minimi da quella da quella sorgente non potevamo cambiare la sorgente senza ricalcolare tutta la mappa a tutti gli altri possibili vertici ok e questa è una famiglia di algoritmi in cui conosco la sorgente conosco la destinazione ho un insieme di destinazioni e quindi voglio calcolare i cammini poi ci sono invece degli algoritmi che sono ottimizzati per precalcolare all'inizio tutti i possibili cammini tra tutte le possibili coppie cioè se io ho un grafo e devo una volta trovare un cammino tra qui e qui va bene ma se io so che nel mio programma nel grafo dovrò trovare moltissime moltissime volte dei cammini tra coppie di vertici che sono ogni volta diverse allora può aver senso investire in un algoritmo che dal punto di vista computazionale all'inizio lavori un po' di più ma poi costruiscono una struttura dati da cui è velocissimo a riuscire a trovare tutti i cammini possibili e immaginabili non che non si possa fare dall'altra parte nel senso che se io cambio la sorgente ovviamente dovrò ricalcolare rifare girare l'algoritmo che mi calcolare le destinazioni diverse da questa diversa sorgente quindi è una questione di nuovo perché ci sono tanti algoritmi implementati perché è un trade off continuo tra quella che è la soluzione migliore nel mio caso specifico la soluzione più efficace nel mio caso specifico in questo caso era se devo calcolare una o pochi cammini a partire da sempre la stessa sorgente va benissimo i primi tipi di algoritmi che sono più semplici hanno una complessità più bassa altrimenti se devo calcolare molti cammini a partire da molte sorgenti diverse allora userò la seconda famiglia di algoritmi che prendono il nome di punto di all pairs shortest path cioè i cammini minimi tra tutte le coppie all pairs anziché single source solo da una sorgente solo da un punto di partenza solo tutti questi algoritmi è una famiglia di algoritmi la maggior parte si basa su un concetto su una struttura di dati molto semplice che è quella cioè su un principio molto semplice che è la volta prossima lo riprendiamo lo definiremo meglio che è un teoremino che ci permette di confrontare tra di loro due cammini o localmente non cammini complessi ma un singolo passo di un cammino e ci permette di dire se quello fa parte di un cammino minimo oppure migliorabile una volta avevuto questo teorema che ci dice che questo frammento è migliorabile tutti questi algoritmi non faranno altro che iterare questi miglioramenti in modi diversi chiaramente perché ogni algoritmo avrà le sue logiche e via via in modo incrementale arriveranno alla soluzione ottima riguardo al calcolo di tutti questi cammini poi in realtà questi algoritmi differiscono anche dal fatto che alcuni ti calcolano solo la lunghezza altri invece ti calcolano effettivamente il cammino il solito dilemma dei matematici che ti dicono sì sì esiste punto oppure esiste e vale 100 oppure esiste e vale 100 e poi ti do anche il cammino dettagliato che a sua volta se i grafi sono semplici è un elenco di vertici se invece è un multigrafo dovrò dire per ogni coppia di vertici qual è l'arco da usare perché magari ci sono più archi quindi ovviamente sui multigrafi il problema è ancora più complicato da risolvere e richiederà degli algoritmi che sono capaci a lavorare sui multigrafi di questo ci occuperemo con più calma la prossima volta il concetto è lo stesso del cammino minimo prima ma gli algoritmi sono diversi perché abbiamo un rompiscatolo in più di cui dobbiamo tenere conto che è il peso degli archi che non è unitario ok per ora oggi ci possiamo fermare qui rispondo solo più a Nicola quando usiamo get parent non abbiamo più bisogno del traversal listener quindi tutta quella parte di edge traverse verso traversal non ci interessa più è già fatto dentro dalla libreria stessa dalla classe stessa ok quindi tutta quella parte non ci serve come vi dico adesso magari vi salvo una versione del oltre che a quello che abbiamo appena fatto vi salvo una versione del codice che usa solo get parent e tutto il pezzo dell'edge listener lo potete tranquillamente buttare via in quel caso non serve perché lo fa già la classe internamente mi dà semplicemente accesso a quelle che sono le sue strutture dati che ha usato internamente ok vi lascio per non sforare troppo col tempo noi ci rivediamo prossimamente ricordatevi per chi viene in presenza domani di prenotarvi poi ci stiamo avvicinando all'ultima esistizione del corso e verso la fine faremo anche un po' faremo delle simulazioni di esame vere e proprie e cominceremo a parlare anche poi delle modalità concrete con cui si svolge l'esame però chiaramente tra un paio di settimane essenzialmente cominceremo a concentrarci focalizzarci sull'esame stesso per oggi grazie arrivederci a tutti ci vediamo la settimana prossima grazie